In questa puntata, Fidi Toscana ha approvata la risoluzione di Partito Democratico e Italia Viva. Fidi Toscana ha approvata la risoluzione del Partito Democratico e Italia Viva. L'Aula ha invece respinto una serie di proposte di risoluzione e di ordini del giorno presentati da Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora. Abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica. Quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte, abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fidi Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il Fondo di Garanzie Centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorzi figli del mondo, delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato. A noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccolo e medio imprese che più di altri stanno faticando. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di fidi Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. Anzitutto abbiamo perso un anno, un anno prezioso, in cui fidi Toscana aveva portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su sviluppo Toscana. Un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Gianni, il primo vero fallimento politico. Allora, per quel che riguarda Fidi, cosa è successo? Si è provato, si è provato a quello che ha detto il nostro governatore in campagna elettorale. Proviamo con, l'abbiamo fatto un anno fa, proviamo a vedere se è possibile continuare col in house. Ma anche, non soltanto la Corte dei Conti, anche Prometeia ci dice alto là, con la presenza di un'altra società in house, questo progetto non si può fare. Vogliamo andare avanti? È rischioso, perdiamo tempo. Quindi bisogna prendere atto di un'altra soluzione. Qual è l'altra soluzione? Allora, qui la Regione Toscana non ha il 50-51%, è l'azionista di riferimento, ma la maggior parte del capitale è nelle banche che, per una serie di motivi, si sono disinteressati, non hanno aiutato Fidi. Allora che facciamo? Il mercato è cambiato, abbiamo dei mercati con degli importanti operatori e allora che cosa bisogna fare? Creare un pacchetto di maggioranza e cercare, metterla sul mercato. La valutazione è veramente sorprendente. Non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica. E ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate alle garanzie di Fidi Toscana. Intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana, per la crescita delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo complessivamente. Oggi però è cambiato il quadro normativo. Soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese. Con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. In dieci anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica, della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese e che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale. Non ci basta un piccolo documento di quattro pagine di Prometea quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio, perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizi e i giudizi consapevoli li hai se hai gli strumenti per formarti quel giudizio. E Prometea era un elemento essenziale quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. Certaldo Arte 22, il cartellone delle mostre che per tutto l'anno accoglierà i visitatori di Palazzo Pretorio. A Certaldo Alto unisce storia, bellezza del territorio e arte contemporanea. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale. È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori. Il Palazzo Petorio a Certaldo Alto, insieme alla bellezza di tutto il borgo, ospiterà collezioni di arte contemporanea. È un mix che rende bella e grande la Toscana, con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori, ma anche con la capacità di guardare al futuro. Allora, saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte 22. La prima sarà inaugurata sabato prossimo, 9 aprile, e sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal Comune di Certaldo, con omaggio a Boccaccio. Nel 1966 furono scelti due suoi disegni, ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il Comune di Certaldo e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre, perché strattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante, che ad oggi non si vede più. Si rivolge all'arte del passato in qualche modo, ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti, e alle esclusive anche artisti che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto, che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita, anche post pandemia, e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convegnistica, la parte artistica, e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre. Inaugurata l'esposizione fotografica Voci di Libertà al Centro Expo di Palazzo del Pegaso, le immagini dedicate ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto, qualche mese fa quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace, scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Sì, originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti, vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra, gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si volle dimostrare il proprio filo americanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Di seme insieme, il formaggio è protagonista della terza edizione, sabato 9 e domenica 10 aprile a Montespertoli, la rassegna dedicata alla qualità di ciò che mangiamo. Allora, la manifestazione troveremo un po' di tutto, diciamo, tutta la filiera del latte e dei formaggi, delle dope provenienti da tutta la Toscana. Quest'anno abbiamo aperto solo alla nostra regione per un discorso proprio di vastità dell'argomento rispetto agli anni scorsi dove avevamo aperto alla nazione, insomma, a tutta l'Italia. Per noi questo è uno stimolo e veramente qualcosa di grande poter ripartire, riportare felicità alle famiglie attraverso un prodotto di qualità come formaggio, che è un prodotto, diciamo, principe dove tutti i giorni viene utilizzato nelle nostre famiglie. È la cosa più bella perché vuol dire che dopo due anni di pandemia è un evento importante, soprattutto per la capacità che ha l'Associazione dei produttori delle colline toscane di fare rete tra i vari attori del territorio. Quest'anno parleranno di formaggio, un tema che è particolare a Montespertoli e che può avere degli sviluppi importanti. Quindi noi lo seguiamo con grande attenzione e siamo contenti di presentarlo insieme all'Associazione e insieme al Consiglio regionale. La Toscana non è solo arte, cultura, bellezza. La Toscana è anche cibi di qualità, eccellenze che vogliamo portare anche fuori dal nostro territorio. E Montespertoli che è terra di vino e anche terra di latte. Ed è bene che ci sia un lavoro in questa direzione, che questi due giorni servano anche a raccontarne il valore alle famiglie. Noi dobbiamo lavorare sulla filiera corta, dobbiamo lavorare affinché i nostri prodotti finiscano sulle nostre tavole, a partire dalle nostre scuole. Credo che anche la formazione alimentare serva a renderci persone migliori. Creare una cultura toscana della qualità dell'alimentazione è importantissimo e incentivare i produttori che ci garantiscano questa grande qualità.